Buonasera, grazie per la presentazione. Buonasera, Piera Levi Montalcini. Questa sera faremo una chiacchierata, un po' anche informale, quindi insomma cercheremo di ripercorrere non solo la vita di Rita Levi Montalcini ma cercheremo di concentrarci un po' sul tema che poi è anche il tema dell'edizione di quest'anno di Torino Spiritualità che è un po' l'imperfezione. L'imperfezione torna molto nel lavoro e nella vita di Rita Levi Montalcini tanto che lei stessa ha scelto proprio questa parola, l'imperfezione, come titolo per un libro famosissimo che è anche autobiografico che si chiama appunto L'elogio dell'imperfezione che è uscito anche come tema alla maturità, quindi insomma esatto. Quando io avevo letto io non so se glielo ho raccontato, comunque io ho un passato da diciamo neuroscienziata anche se dire neuroscienziata in un contesto dove si parla di Rita Levi Montalcini mi rendo conto che suona un po' così, diciamo neuroscienziata dilettante nel senso che ho fatto ricerca all'università per qualche anno e quindi come tutti gli studenti, insomma chiaramente Rita Levi Montalcini era un po' il mito, il modello da seguire. Avevo letto, avevo prima visto il libro, mi aveva molto incuriosito questo titolo L'elogio dell'imperfezione e tu dici ma una persona che ti sembra così perfetta, non solo per l'aspetto perché era oggettivamente perfetta ma anche per questa carriera incredibile, una donna in quegli anni, riuscire ad arrivare a quei livelli, riuscire a fare queste scoperti, si vede che è piemontese probabilmente e quindi c'è un po' l'understatement del vabbè ma dai c'è l'imperfezione però poi leggendo il libro ho capito che l'imperfezione era un valore ed era un qualcosa che Rita Levi Montalcini attribuiva proprio alla vita sostanzialmente, c'è un passaggio che mi ha colpito particolarmente dove parla di evoluzione e dice che gli organismi perfetti non evolvono perché sono perfetti invece l'evoluzione avviene quando c'è una mutazione e quindi un'imperfezione e allora da lì poi si sviluppa la vita per come la conosciamo oggi, per cui questa imperfezione che adesso con Piera Levi Montalcini proveremo a ripercorrere è un'imperfezione profonda che appunto viene sempre vista come un qualcosa di negativo ma in realtà è un po' un motore un motore di cose che succedono nella vita e quindi io ho segnato sostanzialmente tre punti che mi piacerebbe insomma un po' sviluppare con lei questa sera che sono tre punti chiave che segnano un po' tutto il lavoro della zia perché lei la chiama la zia e quindi questa sera esatto la chiameremo la zia e che sono un po' il caso, l'impegno e l'intuito che sono tre caratteristiche che Rita Levi Montalcini ha sempre dichiarato essere un po' alla base della sua vita allora io partirei un po' dall'inizio dando per scontato che molti qua sappiano delle cose ovviamente della vita della zia ma ci sono anche magari persone che vogliono fare un ripasso insomma non sono così sul pezzo come dicono i giovani e quindi vorrei partire proprio dall'inizio perché una cosa che mi raccontava anche lei nella chiacchierata che abbiamo fatto per preparare questo incontro era che la zia non è che avesse questa visione quando era giovane, questa visione sul lungo periodo di dire voglio fare la neuroscienziata, lei non sapeva bene quello che voleva fare no, non sapeva che cosa voleva fare anche perché probabilmente aveva le ali tarpate dai fratelli che sapevano tutti che cosa volevano fare perché ciascuno di loro aveva delle doti ben precise mio padre fin da piccolo disegnava benissimo e scolpiva la zia Paola dipingeva e disegnava e zia Nina scriveva favole, novelle e cose del genere e zia Rita si trovava in mezzo a questi tre che avevano ben chiaro che cosa avrebbero fatto da grande e invece lei ondeggiava, non era ben decisa su quello che avrebbe fatto e in più l'aggravante è stato il fatto che il nonno ha mandato le figlie femmine alla scuola femminile quella scuola, quel liceo femminile che era nato dalla riforma gentile e che era pensato per creare delle buone madri e mogli e quindi le buone madri e mogli imparavano a far di cucina, a tenere la casa, a ricamare eccetera eccetera ma non andavano all'università quindi finita la maturità a questo liceo non c'era sbocco verso nessuna università papà invece aveva seguito anche lui in queste diciamo forme familiari di andare dietro alla novità aveva fatto il liceo moderno che era credo un liceo classico dove mancava il greco e si studiava un po' di più matematica e ha rimpianto tutta la vita di non aver studiato il greco però poi è stata una buona scusa per agganciare mia madre che invece studiava lettere e che quindi l'ha agganciata come la signorina che doveva insegnargli il greco e le ha chiesto di sposarla il greco è stato il motivo per a proposito di caso il caso anche lì è il caso dove si sono conosciuti papà e mamma in cantina si sono conosciuti in cantina il primo giorno di bombardamenti a Torino dove mia madre arriva giù, erano intorno a mezzanotte, era notte mia madre e la sua famiglia arrivano giù con la vestaglia i Levi arrivano giù tutti vestiti di tutto punto con i loro amici con cui stavano tenendo una serata di discorsi vari c'erano i vari amici di famiglia quindi papà scopre che questa signorina non era una signora e quindi non era sposata e poteva chiedere la mano della mamma e così ha fatto e quindi c'è il caso comunque la zia Nina le zie si ritrovano zia Paola va nello studio di Casorati non c'era bisogno di una laurea zia Nina per scrivere non ha bisogno di una laurea perché lo stava a portare i vari articoli ai giornali infatti c'è una sua lettera da ragazzina in cui scrive al padre ho scritto una novella adesso girerò tutti i giornali di Torino per vedere se qualcuno me la pubblica e zia Rita invece si barcamenava e bellissimo è quello che le ho raccontato della prova di maturità a liceo femminile in cui zia Rita scrivendo al padre e al mio papà scrive mi è stato assegnato il compito peggiore che mi potesse essere assegnato quello più difficile ma si sa io sono sempre sfortunata e voi però siete troppo acerbi e poi ho capito che quella acerbi sottolineava il fatto che loro erano maschi e quindi non potevano capire che cosa voleva dire la difficoltà del compito che le era assegnato era stato assegnato il compito di tagliare e cucire un'intera camicia da notte da donna e quindi da lì viene fuori poi un premio Nobel che in effetti devo dire con gli spilli poteva essere una sarta e invece no ma perché con gli spilli poi la zia ha avuto molto a che fare perché gli spilli erano quelli che lei limava e forgiava per poter lavorare sotto il microscopio e lavorare sugli embrioni di pollo ma infatti adesso agli embrioni di pollo ci arriviamo però prima c'è l'iscrizione a medicina si laurea in medicina nel 36 e ha raccontato che all'epoca nel suo corso c'erano solo altre sei donne quindi che si sono laureate con lei anzi erano solo in sei di cui la cito proprio testualmente solo due eravamo realmente impegnate nel senso che le altre si erano iscritte a medicina per poi andare comunque a fare probabilmente le mogli e le madri mentre invece due avevano l'obiettivo di diventare medici non solo perché una sua compagna è diventata pediatra e poi la mamma di una mia amica quindi erano tre Torino e piccola erano tre erano tre e nel racconto lei di nuovo torna un po' il caso in questo caso un caso pesante perché lei dice io avrei fatto il medico alla fine ho scelto medicina per una sorta di spinta affettiva perché evidentemente ci tenevano voleva curare voleva curare la gente tra l'altro in anni in cui curare la gente era una cosa diversa da quello che da quello che vuol dire oggi e dice poi però con le leggi razziali e con tutto quello che è successo quel mio progetto di vita si è dovuto interrompere no? e lei in un documentario che 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 Piera mi ha mi ha girato è molto bello tra l'altro che racconta appunto che è un'intervista a Rita Levi Rita Levi Montalcini e lei a un certo punto dice io grazie poi un grazie tra molte virgolette no? a Hitler e a Mussolini sono diventata quello che sono perché? perché altrimenti senza le leggi razziali senza tutto quello che è successo io probabilmente sarei diventata un medico avrei fatto la mia carriera a questo punto l'intervista era di fine anni 80 no fine anni 90 più o meno ed è il 99 quindi aveva già più di 90 anni dice a questo punto sarei in pensione effettivamente a più di 90 anni uno sarebbe in pensione e non avrei vinto il premio Nobel eccetera eccetera lei dice è difficile ringraziare no? ovviamente Hitler e Mussolini però di nuovo il caso lì è stato proprio un momento anzi un momento un periodo gigantesco che però ha segnato sì il caso segna la nostra vita sempre e la la grande capacità è quella di cogliere l'attimo fuggente perché se uno ha delle perplessità e se uno non ha coraggio di provare di test di di buttarsi insomma ma si fa frenare dalle paure ovviamente perde un sacco di occasioni diciamo che l'imperfezione nell'elenco che lei ha fatto delle cose di Ziarida manca la curiosità che è una una delle peculiarità che muovono che muovono il ricercatore e che muovono che dovrebbero muovere tutti noi cioè il fatto di vivere in un mondo in cui diamo per scontato tantissime cose alla fine ci come dire ci priva della capacità di trovare l'imperfezione per poterla migliorare quello che è importante è vedere cosa è si può migliorare in tutto quello che abbiamo intorno a noi per vivere meglio e direi che molte cose le sono state fatte per carità soprattutto negli ultimi negli ultimi nell'ultimo secolo in cui abbiamo trovato il modo di non far fatica di non camminare che ci fa malissimo di non fare un mucchio di cose di farle fare alle macchine e però tutte queste macchine possono essere perfezionate e man mano si può andare avanti con nuove scoperte anche perché automaticamente l'imperfezione e la curiosità fanno sì che l'umanità vada avanti sarebbe bello che non ci impegnassimo così tanto a inventare armi e metodi di distruzione invece inventare qualcosa che ci faccia star bene purtroppo i grandi finanziamenti e tutta la parte computer eccetera è nata proprio dalla parte militare cioè per necessità militare però questo è un altro tema tutto diverso anche se comunque un po' collegato perché poi da lì l'insegnamento della zia è quello di dire da un evento tragico io riesco comunque a tirarci fuori un qualcosa di positivo sì in effetti ogni cosa che ci succede ti dà poi la possibilità di avere anche dei risvolti positivi e di fare delle cose positive dopo nel momento in cui li subisci è dura però devo dire che in famiglia anche il periodo della guerra era una delle domande ricorrenti che io facevo a zia Rita a mia madre a quelli che la guerra l'avevano passata e come avete fatto superarla perché con le leggi razziali la paura di essere presi e la loro anche incoscienza nel non difendersi troppo il fatto di affrontare tranquillamente tutto e andare avanti e concentrarsi su quelli che erano i loro interessi per me è straordinario però in effetti il concentrarsi sui loro interessi è quello che ha fatto in modo che potessero affrontare una situazione tragica quindi zia Rita si mette grazie a papà che le ha costruito il laboratorio in camera da letto a fare ricerca mio padre ha continuato a disegnare e a vendere allora per poter vivere vendeva i disegni che faceva e zia Paola ha continuato a dipingere quindi l'interesse per quelli che erano i loro come dire i loro talenti e il loro lavoro è stato quello che gli ha dato la possibilità di sopravvivere e di andare avanti in fondo con una certa incoscienza perché poi tra l'altro mio padre e mia madre hanno anche fatto un bambino che è nato sotto le bombe quindi voglio dire come fai a pensare perseguitato che scappi ancora a fare un bambino e ci vuole un bel coraggio secondo me la forza della vita che in qualche modo non è quello che dico dicevamo prima di aspettare tre anni a sposarsi esatto cioè ci sposiamo tra tre anni perché in mezzo dobbiamo avere tutto pronto allora era il caso era un po' diverso c'è un di noi sempre lì quando ancora studiava qui a Torino a medicina lei ha lavorato con era allieva di di Luria e aveva sì sì di Giuseppe Levi sì sì era compagna di classe di Luria e di Dulbecco e lei racconta che la scelta del sistema nervoso dello studio del sistema nervoso la affascinava però era anche una scelta legata di nuovo al suo essere donna in quel contesto perché dice alla fine era una cosa talmente complicata che non ci si metteva nessuno a studiare quella cosa lì perché non era non rendeva abbastanza no? gli altri si concentravano su altri su altri aspetti e lei invece si è messa a studiare quello forse un po' di nuovo perché magari ha visto che c'era un'apertura di qualche tipo e magari era affascinata da quella da quella complessità no? da quel gomitolo da srotolare no? come diceva la zia sembrava che fosse affascinata dal fatto di non avere dover lottare seriamente poi di fatto ha lottato molto seriamente e si è impegnata veramente tanto quindi diciamo che è stata una cosa nata un po' forse così per dire vado a fare una cosa che tanto agli altri non interessa e lì non ho non ho competizione e poi invece si è rivelato un campo dove la competizione è stata ed è altissima quindi andando avanti negli anni andando avanti nella ricerca andando avanti nella sua carriera universitaria e tutto veramente ha dimostrato anche una capacità come donna di tenere testa a tutto un sistema maschile che cercava di come dire di schiacciare queste poche donne che c'erano nella ricerca raccontava sempre sorridendo come al primo convegno di neuroscienze che si è tenuto in assoluto in America il chairman avesse cominciato la conferenza dicendo signora e gentili signori perché era l'unica donna e anche come in quell'occasione lì fosse stata avvicinata dalla moglie di uno dei vari professori che c'erano e le ha chiesto di chi era la moglie e lei ha risposto che era il marito di se stesso quindi anche quello poi la zia tra l'altro aveva una capacità di ironia e un inumorismo pazzesco veramente uno non se lo aspettava ma ti dava delle risposte che ti gelavano erano poi sempre molto argute e molto centrate quindi particolarmente interessanti anche particolarmente cattive in quel caso in certi casi particolarmente cattive era molto tagliente decisamente beh d'altronde se devi emergere in un mondo molto competitivo bisogna tirare fuori tutti gli artigli però era un modo di essere tagliente sempre anche gentile perché poi lei aveva questo suo aspetto così da gentile signora che alla fine riusciva a non essere offensiva e poi appunto piemontese per cui per cui insomma non si non si esagera mai un'altra delle delle caratteristiche che emerge sempre da quei primi anni prima parlava del laboratorio costruito in camera in camera da letto è il il lavoro proprio maniacale per riuscire a padroneggiare la tecnica sempre in questa in questa intervista che ho visto lei racconta di come lei dice sempre io non ero particolarmente più intelligente degli altri non avevo grandi doti a un certo punto dice la mia dote più grande è l'intuito secondo me ne aveva molte altre però comunque va bene però tra le doti in realtà che si riconosceva c'era proprio quella dell'impegno del voler a tutti i costi di padroneggiare una tecnica che era la tecnica dell'epoca per visualizzare i neuroni tecnica che insomma che poi esatto quella di Golgi di Cahal che poi tutti noi studenti abbiamo poi imparato e abbiamo studiato quello era il periodo in cui non è che le studiamo cioè le mettevano in pratica per le prime volte e lei è arrivata probabilmente a essere la persona al mondo che applicava meglio queste tecniche lo faceva lì nella camera da letto con gli spilli com'era questa cosa gli spilli gli spilli sotto il microscopio sembrano dei veri bisturi e la zia che aveva queste mani così sottili aveva la possibilità di padroneggiare molto bene quegli spilli gli spilli delle sarte niente d'altro cioè lei con la carta vetro li limava e venivano fuori tutti gli attrezzi necessari per poter fare delle operazioni agli embrioni oltretutto aveva una vista molto aveva due parti oltre a tutte le altre due particolarità che l'aiutavano moltissimo una memoria incredibile cioè i numeri di telefono se li ricordava appena glieli dicevi si ricordava il nome dei figli di una persona che aveva incontrato alla stazione tre anni prima ma si ricordava che cosa aveva fatto quella persona cosa le aveva raccontato che aveva anche dei figli e come si chiamavano cioè quelle cose strabilianti ma quello è durato fino alla praticamente alla fine della sua vita e poi aveva questa capacità questa vista che le permetteva di vedere cose che anche con i migliori microscopi di allora nessuno riusciva a vedere quando io dovevo scegliere la facoltà mio padre mi ha mandato a vedere il laboratorio della zia per capire se invece di fare l'ingegnere che non era un lavoro troppo femminile neanche il mio non volevo seguire le orme della zia ma quando mi ho messo davanti a un microscopio di quelli già molto potenti io quell'embrione non l'ho proprio visto cioè era di un giorno non lo vedi beh te ne metto uno di due giorni non lo vedi alla fine siamo arrivati a un embrione di cinque giorni mi fa vabbè questo lo vedi no allora ti opero questo tanto questo muore perché l'operazione bisogna fargliela molto prima e io ero disperata poi invece passata un assistente della zia mi fa guardi non si preoccupi nessuno vede niente ma gli embrioni i pulcini nascono senza un'ala quindi vuol dire che l'operazione è stata fatta quindi vuol dire che lei aveva queste capacità enormi ma aveva anche questa perseveranza che era finché non arrivava a scalare il monte bianco non mollava cioè fosse partita con le scarpe da ginnastica per arrivare in Cimane Leveres sarebbe arrivata con le scarpe da ginnastica in Cimane Leveres perché lei doveva arrivarci questo era il suo e una delle cose che raccomandava sempre i giovani quando andava in giro era quella di essere di non mollare a metà quello che stavano facendo non nel senso di dire se hai incominciato una facoltà che non ti piace vai avanti fino alla fine perché l'hai incominciata se l'hai incominciata e trovi che non ti piace cambia pure facoltà anzi fallo subito ma se stai portando avanti un lavoro e devi arrivare a capire se il lavoro è giusto o sbagliato devi arrivare nella ricerca fino in fondo alla definizione di quello che tu vuoi raggiungere e su questo non non mollava quindi una delle cose che ho detto ieri a un altro convegno e che si sono stupiti è che l'associazione non l'associazione e la fondazione non hanno mai dato borse di studio a ragazzi particolarmente dotati che hanno bei voti ma a ragazzi beh bei voti se non hanno soldi sì per aiutarli a arrivare in fondo ma soprattutto a ragazzi che si impegnano molto cioè anche se non hai un buon voto ma ti impegni molto per riuscire a superare l'anno vai premiato perché puoi anche prenderti cinque e la zia tra l'altro un cinque di scienze se l'è preso in terza media però sì sì chissà poi il professore no ma lì il grande problema era che zia Paola aveva un voto più bello e allora la competizione tra le gemelle saliva alle stelle per cui nelle lettere al papà c'era sempre se la Paola aveva fatto qualcosa meglio e lì e lì era un cuoceva era una cosa non c'era mai pace non c'era mai pace non c'era pace no bisognava sempre fare tutto benissimo e tutto fatto secondo i canoni insomma la zia ha vissuto tanti anni decenni in America 30 anni 30 anni in America qual era il suo rapporto con invece il nostro paese poi ha sempre avuto collaborazione ovviamente no però ha lavorato là per tanto tempo immagino che stesse bene là la definizione della zia era in America si lavora bene e si vive male in Italia si vive bene e si lavora male quindi questa era la sua a proposito di giudizi taglienti la sua la sua definizione era questa e quindi in America c'è stata per 30 anni perché la riusciva avere i fondi per poter lavorare quando le hanno offerto di tornare in Italia è tornata in Italia perché la famiglia era qui perché nonostante fosse una persona che non era sembrava che non fosse particolarmente attaccata alla famiglia poi invece lo era tantissimo e quindi è tornata indietro e ha lavorato un po' meno bene ma per fortuna aveva raggiunto un tale grado per cui riusciva anche ad avere dei grant qui in Italia e quindi riusciva a portare avanti la ricerca anche qua sì che viene da dire se non ci riusciva lei a ottenere dei finanziamenti ma immagino che non fosse comunque semplice quando la zia ha compiuto i 75 anni che andava in pensione ha chiesto al CNR di avere una stanza per poter continuare a stare in istituto e stare lì dove era e le hanno risposto che non c'era posto per lei quindi ha portato via tutte le sue cose poi l'anno dopo ha preso il Nobel e le hanno dato un piano non una stanza però uno deve vincere il Nobel esatto a quel punto ti richiamano ma appunto arriviamo al Nobel che di nuovo è stato uno di quei momenti che tutti ci ricordiamo tutti quelli che erano vivi all'epoca diciamo i più giovani ovviamente non se lo ricordano magari avete visto qualche filmato è stato un momento molto importante per il nostro paese noi non è che abbiamo vinto tutti questi Nobel soprattutto per la scienza adesso il più recente è quello di Giorgio Parisi però prima di Giorgio Parisi forse c'era la zia non so cosa c'è stato in mezzo di Nobel scientifico esatto no ce n'è stato un altro che però è americano è un altro italiano che l'ha preso un po' dopo adesso non mi ricordo il nome ma era anche lui italiano cittadino americano che era Dulbecco no Dulbecco l'ha preso prima dell'azienda adesso non mi ricordo non sono più parlata sulle date dei premi Nobel comunque se qualcuno lo cerca su Google l'ho incontrato a Washington all'ambasciata l'anno in cui lui andava poi a prendere il Nobel e appunto è stato un momento per noi fondamentale nei racconti però che faceva la zia non sembra che che questo riconoscimento insomma l'abbia segnata in maniera particolare cioè gli dice sì mi ha fatto piacere no? forse perché erano passati trent'anni dalla scoperta e forse perché l'aveva aspettato tanto però era credo che fosse più forse come dire una cosa da dire me lo doveva a un certo punto tant'è che nella motivazione in una delle motivazioni che ha fatto il Karolinska Institute è che è stato il primo fattore di crescita a essere scoperto e che quindi non si sarebbe potuto premiare nessun altro nessun'altra scoperta a fine se non si premiava quello lì prima quindi a quel punto probabilmente erano passati gli anni per cui si poteva premiare del Nobel scientifico anche una donna eccetera 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 e quindi è arrivata a quello la premiazione è stata una cosa ovviamente fiabesca quindi non descrive questo vestito bellissimo mamma mia lo ricordate scuro no era verde scuro viola e rosso scuro e rossa rosso scuro nelle nella cintura eccetera quindi era veramente poi con quel po' di strascico che faceva subito abito da da grande cerimonia e si vede che quando il re le consegna le consegna il premio lei sorride se avete osservato io poi l'ho fatto notare più di una volta ma soprattutto lo faccio notare ai bambini quando la zia scende la scala era l'unico l'unica donna quella in quella tornata lì a prendere il Nobel che scende la scala insieme al re dal braccio al re la zia ha sotto braccio una cartella da lavoro di di cuoio marrone che col vestito c'entrava zero zero quella cartella di cuoio marrone conteneva il discorso che lei doveva fare alla la cena e tutti noi a dirle zia dammi questa cartella che te la porto sotto non puoi scendere le scale non l'ha mollata perché lì c'era il suo discorso e se si fosse dimenticata di qualcosa o se la cartella non fosse arrivata sarebbe stata una tragedia poi la cartella non l'ha aperta il discorso l'ha fatto a braccio si ricordava a memoria tutti i collaboratori che doveva nominare l'ha fatto e della cartella non c'è più stata traccia però c'è quella fotografia che se voi andate a vedere è l'emblema però di quanto una persona per quanto affermata sia per quanto famosa sia per quanto sia stata riconosciuta dall'intero mondo scientifico che aveva dei grandi meriti aveva comunque del suo bisogno della copertina di Linus anche dimostrazioni di serietà perché il discorso l'ha preparato se l'è portato dietro insomma quindi rientra un po' in quella cosa di limare gli spilli e di lavorare impegno indefesso come lavoro indefesso come diceva sempre per cui adesso andrò a ricercarla quella foto il lavoro incominciava alle 6 del mattino e alle 6 del mattino arrivavano le telefonate a tutti cioè la mattina alle 6 tutti svegli suonava il telefono e la zia dall'altra parte che ti diceva dormivi e tu no assolutamente ero sveglissimo poi ti faceva le domande più complicate e tu dovevi cercare di svegliarti giusto in un secondo e mezzo per poterle rispondere che ansia essere la nipote di un premio Nobel no non era anche divertente doveva tenencare i fattori di crescita cosa chiedeva no come ingegnere ero generata da questo non le chiedeva di guardare gli embrioni di pollo però questo l'abbiamo capito però i circuiti ingegnere elettronica quindi insomma io devo dire che il fatto di aver studiato ingegneria e di aver studiato robotica soprattutto di aver lavorato nella robotica mi ha fatto come dire mi ha aperto un mondo perché quando mi dicevano vai a vedere cosa fa zia Rita non mi avevano spiegato bene cos'era il fattore di crescita nervosa e che dietro c'era un cervello umano che faceva delle cose quando dovevo programmare il movimento di un braccio di un robot e quello era una cosa complicata ho capito che noi facciamo un sacco di cose senza neanche accorgercene e non abbiamo da spezzettare la curva per riuscire a prendere un bicchiere insomma quindi veramente lì si è aperto la curiosità per me di capire come funzioniamo e quali sono i meccanismi che ci muovono perché veramente la complessità del nostro essere è talmente e poi è talmente preciso anche è talmente tutto che addirittura ti vengono a dire che se ti tolgono un dente da una parte e non dall'altra ti si storce la spina dorsale tu dici questi sono matti no è vero perché siamo un perfezionamento di una imperfezione iniziale e quindi man mano ci perfezioniamo il racconto che faccio ai bambini attenzione alle nuove tecnologie perché riesichiamo di diventare gli omini di walleye che se ve li ricordate se qualcuno ha visto quel film lì della apple che io adoro gli omini di walleye non hanno più le braccia non hanno più le gambe ma sono dei palloni rotondi che rotolano perché hanno i robot che li imboccano li spostano gli fan tutto e noi se facciamo così perdiamo la nostra capacità di usare il nostro corpo ha parlato di bambini e visto che ci avviciniamo verso la la fine insomma di questa chiacchierata vorrei chiederle un po' qual è l'eredità della della zia lei è molto impegnata al di là della politica insomma è molto impegnata proprio nel portare avanti il lavoro della zia costruendo il lavoro nella fondazione ma anche in questa rete che avete costruito di tutti gli istituti scolastici intitolati grazie non mi veniva la parola intitolati Aritalevi Montalcini e mi raccontava prima che è sempre in giro insomma fondamentalmente in giro nelle scuole a raccontare a condividere così come ha fatto questa sera con noi la vita ma anche appunto il metodo la curiosità insomma quindi queste cose che hanno spinto la zia che l'hanno poi portata al premio nobelle quindi volevo chiederle appunto che cosa dove sta andando in questo momento il lavoro della zia e la zia stessa ma il lavoro della zia è quello che cioè l'eredità che ha lasciato lei e la famiglia in generale di testare tutto quello che è novità senza mai aver paura della novità la novità c'è per forza l'evoluzione c'è per forza non si può piangere dicendo prima era meglio o rimpiangendo oppure strappandosi i capelli perché i nuovi lavori tolgono il lavoro o la specializzazione di vecchi mestieri anche se alcuni secondo me andrebbero molto conservati perché erano delle capacità manuali che si stanno perdendo perché l'evoluzione è verso qualcosa di più della comprensione cioè noi non sappiamo nulla praticamente siamo agli albori del capire del sapere questo proposito racconto sempre il un aneddoto sulla scuola rabbinica che si incontra e dice che cosa faremo nell'aldilà perché l'eternità è lunga e a far niente per l'eternità ci stuferemo quindi come impiegheremo l'eternità per per non annoiarci e un rabbino dice passeremo tutto il nostro dell'eternità a chiedere a Dio quello che non abbiamo capito sulla terra e un altro dice ma forza di far domande avremo esaurito le domande no perché ogni risposta ci provocherà altre tre domande quindi non finiremo mai cioè la sete di sapere la sete di conoscere la sete di scoprire e di di essere curiosi verso quello che non sappiamo e che vorremmo sapere ed è lì l'intuito cioè l'intuito è quello che ti aiuta anche a capire che cosa potresti fare per conoscere di più oltre alla curiosità e quindi è questo che porto avanti soprattutto con i bambini perché non si spengono perché i cellulari i telefonini queste cose li stanno un po' spegnendo e quindi penso che vada riscoperto il come dire il lasciare che i bambini crescano con con i loro tempi ciascuno col suo tempo ciascuno col suo ritmo ciascuno con i suoi divertimenti o i suoi non divertimenti una sfida che ho cercato di lanciare ma che per ora non ha avuto risposta se non in una parola improbabile è quella di definire il gioco dei bambini non come gioco ma come un'altra cosa perché i bambini giocando imparano non è che giocano cioè per noi il gioco è impiegare il tempo libero per non star con le mani in mano invece il bambino che traffica lo fa perché sta imparando sta imparando a spostare gli oggetti sta imparando tutto quello che lo circonda quindi noi usiamo il bambino gioca come dire è là che fa niente in un certo senso in un certo senso dispreziamo il suo tempo passato ad imparare quindi bisognerebbe coniare una parola che ci dica che il bambino non sta perdendo tempo ma sta imparando va bene se c'è qualcuno che ha voglia di provare a cimentarsi con questa sfida è una sfida questa perché veramente c'è una parola che esiste già in italiano ma è talmente complicata che nessuno la userà mai esatto e tra l'altro nel gioco c'è l'errore per tornare poi all'origine della nostra chiacchierata il gioco è sbagliare fare errori ti crolla la torre trovi il modo di tenerla su il difetto grosso è che il bambino che sbaglia e riprova è lasciato vivere già il ragazzino che sbaglia rischia di essere preso in giro e redarguito e invece di lì impara insomma abbiamo tutti imparato sbagliando e continuiamo a sbagliare almeno chiudo leggendo una frase che ha scritto Rita Levi Montalcini proprio nel suo libro l'elogio dell'imperfezione proprio perché è proprio il tema sia dell'edizione di Torino Spiritualità sia di quello che abbiamo cercato di raccontarvi questa sera lei dice il fatto che l'attività svolta in modo così imperfetto da me insomma sia stata sia tuttora fonte inesauribile di gioia mi fa ritenere che l'imperfezione nell'eseguire il compito che ci siamo prefissi o che ci è stato in qualche modo assegnato sia molto più consona alla natura umana così imperfetta che non la perfezione e quindi di nuovo siamo umani perché siamo imperfetti la perfezione forse è di qualche entità già che siamo a Torino Spiritualità così ci sta come si d'altra parte le persone troppo precise troppo perfette normalmente è difficile reggerle quindi meglio meglio uno che sbaglia che quello troppo perfetto no l'imperfezione l'errore l'imperfezione la curiosità sono tutte cose che devono andare di pari passo e che devono rendere la persona umana anche cioè capace di usare il tempo e di apprezzare quello che ha e di apprezzare le cose che gli capitano e nel tempo fare un po' di tutto perché così si arricchisce e io devo dire che forse l'eredità più grossa che mi ha lasciato Zia Rita è proprio quella di andare in giro a parlare nelle scuole a vedere il mondo e a vedere anche solo l'Italia che non conosciamo perché l'Italia è veramente un paese straordinario dove si trovano se voi leggete i giornali o sentite la televisione o la radio le nostre scuole sono un disastro non vanno bene i professori non fanno niente non è vero niente cioè questo è una di quelle cose che diciamo giusto perché c'è qualche scuola che non va bene c'è qualche professore che lavora male ma magari lavora male perché l'hanno spostato da Palermo a venire a fare il supplente a poierino che non è neanche facile da raggiungere scendendo dal treno e quindi quella persona lì non sarà la meglio disposta per fare il suo lavoro invece ci sono veramente professori e persone che anche nel volontariato poi che danno l'anima per cercare di sviluppare tutto quello che può essere per rendere migliore questa nostra società e questo nostro mondo quindi questa è veramente l'eredità più bella che ho avuto perché alla mia età posso continuare a viaggiare avanti e indietro e prepararmi i treni che mi portano da Treviso a Fermo che non esistono non esiste anche a Fermo e d'altronde come dire i geni sono quelli insomma e quindi anche lei pensione no pensione decisamente più in là beh su questo posso posso lanciare l'ultima l'ultima butata che faccio sempre è che essendo cambiata la necessità di usare la forza umana per i lavori che dobbiamo fare ma dovendo sviluppare la forza intellettuale dovremmo andare in pensione fino a 40 anni per maturare capire e crescere e dopo si lavora finché si vive perché passare gli ultimi anni della vita la legge Fornero credo che abbia lasciato qualche strascio no ma la legge Fornero cioè veramente per lo Stato sarebbe una pacchia perché saprebbe benissimo quanto spende di pensione quanto spenderà tra 40 anni di pensione ma a parte questo per me veramente soprattutto in certi paesi più piccoli è triste vedere le persone anziane che passano la giornata a involversi su loro stesse perché non hanno un vero impegno da affrontare cioè il fatto di doversi alzare la mattina anche presto perché devi fare qualcosa è è la vita ed è il detto della zia aggiungere vita ai giorni e non giorni alla vita cioè aspettare di morire è tremendo ed è tragico continuare a vivere programmando che da qui a 10 anni faremo ancora delle cose io continuo a programmare tra 20 anni perché ho ancora 20 e più anni davanti quindi per me questi 20 e più ci sono ancora poi magari domani mattina avrete tutti il mio funerale se ne avete voglia mi auguro di no perché in questo momento ho ancora delle cose importanti da fare ma voglio dire il fatto di continuare ad avere dei progetti avere dei programmi e avere la speranza di portarli avanti o di lasciarli già incamminati per altri è molto meglio che star lì aspettare che qualcuno ci venga a prendere e ci porti chissà dove ecco e con questo finale così un po' un po' discendente io ringrazio in realtà Piera Levi Montalcini però è di speranza no ma certo ma ci mancherebbe di grande speranza e alla fine è quello che capita a tutti però signori arriviamoci tutti allegri e contenti ma sa qual è il mio problema è che io i 40 li ho passati e quindi adesso penso ho lavorato fino a qui e ancora 60 e passa e penso la pensione che non ho fatto prima e che non farò perché io non la farò appunto e quindi sarà costretta a lavorare finché campa lo so grazie grazie Piera Levi Montalcini grazie a tutti voi grazie